Benvenuti al congresso Estro 2022 a Copenaghen, siamo al booth di Opasca, un'azienda tedesca che offre soluzioni all'avanguardia per la gestione del workflow del paziente in radioterapia e per migliorare la sicurezza e il comfort del paziente durante tutto il trattamento. Opasca assegna ad ogni paziente un badge numerico che viene utilizzato dal paziente per effettuare il check in all'interno del reparto ogni seduta di trattamento. Grazie a questo badge il reparto è consapevole della presenza del paziente e può chiamarlo in forma completamente anonima con un singolo click dalla sala di comando dell'INAC o dagli ambulatori medici. A seguito della chiamata del paziente il numero del paziente con il rispettivo colore compare negli info display posizionati all'interno del reparto nelle sale d'atteso. Opasca elimina ogni rischio di errore nell'erogazione del trattamento radioterapico grazie al sistema patient validation ovvero a riconoscimento facciale. L'analisi dei dati biometrici del volto del paziente consente di garantire che il piano caricato nell'INAC corrisponda effettivamente al paziente che si presenta all'ingresso della sala di trattamento. Opasca è perfettamente integrato con i LINAC, ELECT e VARIAN e con i rispettivi record and verify, ARIA e Mosaic. Alla maggior sicurezza nell'erogazione del trattamento si unisce la possibilità di mettere il paziente a proprio agio durante il trattamento radioterapico grazie alla possibilità di definire il colore delle luci della sala di trattamento e grazie alla possibilità di caricare delle playlist personalizzate in modo tale che il paziente possa ascoltare la musica preferita durante la terapia. Le luci colorate all'interno del bunker oltre a mettere a proprio agio il paziente garantendo la possibilità di scegliere la luce preferita durante il trattamento possono interfacciarsi con i sistemi di tracking ottico come Vision RT consentendo di fornire il feedback al paziente nei trattamenti a breath hold o a respiro controllato. Le luci cambiano di colore diventando verdi quando il paziente respira nella giusta fase respiratoria nei trattamenti in breath hold o entro alle soglie prefissate nei trattamenti a respiro controllato. L'innovativo modulo face to face di Opasca consente la comunicazione video tra la sala di trattamento e la sala comandi in modo tale che si possano mandare non solo segnali audio ma anche segnali video e far vedere la propria presenza al paziente durante tutto il trattamento. Migliore efficienza nella gestione del paziente all'interno del reparto, maggiore sicurezza nell'erogazione del trattamento e maggiore comfort da parte del paziente durante il trattamento grazie alle luci, alle opzioni audio e al sistema di comunicazione video face to face. Opasca offre tutto questo in una soluzione modulare che può essere personalizzata in base all'esigenza del vostro reparto.